Sono Pier Mariani, il titolare dell'azienda agricola Corte di Valle a Greve in Chianti. Abbiamo deciso un anno fa di riprendere questa azienda, di modernizzarla e di farne un'azienda più dedicata ai vieni pregiati del Chianti Classico. Si vedono tutte le potenzialità di crescita che faranno di Corte di Valle un vino sempre più pregiato. Per me era la scoperta di un mondo nuovo, ma anche se ho lavorato tanto in Italia mi sono detto che era l'occasione splendida di sviluppare questa azienda con tutte le sue ricchezze sia sull'agriturismo che sia sul vino. Siamo molto attenti alla sostenibilità, cerchiamo di trovare tutti i modi di risparmiare acqua, di risparmiare energia, di fare in modo che la cultura del vino, la cultura del vigneto sia più sostenibile nel tempo, soprattutto in un periodo caratterizzato dal cambiamento climatico che incide molto sulla lavorazione del vigneto e la preparazione anche del vino. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!